Ragazzi, siamo ritornati con un video che non facevo da un bel po' di tempo, ovvero i cannoni di TNT Io e Marci avremo le nostre due isolette, con tantissimi oggetti per creare dei cannoni di TNT Devevo fare spodere prima questo muro e poi fare spodere l'avversario, sei pronto? Pronto! Allora buttiamoci subito giù e Marci, prepara a costruire il tuo primo cannone di TNT Ah, io sono già in ansia perché, come ben sai, non è che sono così bravo a farli Ma manco, io stai tranquillo che non sono per niente bravo a fare queste cose io Non sono per niente capace, abbiamo anche gli attrezzi, quindi prendiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, ok? Mi servirebbe un repeater, mi servirebbe Ci sono tutti, nella zona red sono i repeater sono, tutto nella zona red sono Marci Ok, ok ci sono Io dovrei avere tutto in teoria, ah no manca la leva, e senza leva cosa faccio? E non lo attivo Allora La leva l'ho presa Ne la preso anch'io Non è vero Deve prendere infatti Allora, perché c'è un comparatore pure? Potrebbe servirti se volessi fare qualcosa di particolare, però non penso che faremo cose molto particolari in questo video L'unica cosa particolare che ci sarà sarà che tu esploderai oggi, lo sai? Vabbè, quello è sicuro, ma anche tu penso e spero che esploderai Allora, facciamo così Sicuramente moriremo da soli diverse volte Ok, dobbiamo essere uccisi dall'altro Esatto, dobbiamo essere uccisi per forza dall'alto, se no è un po' difficile la situa Ok Quindi metto qua un po' di TNT Qua metto due dispenser in questo No, però non in alto Cioè verso di qua Ok Ci metto dentro uno staccatesta E se tu metti la redstone, Marci La redstone è il vero problema No, a me la cosa che preoccupa di più in realtà È il fatto del Del? Quanto TNT mettere Inizia con poca, affidati di me e inizia con poca, Marci Ok Forse questo è meglio toglierlo, facciamo una roba del genere Ma nel dispenser quanto TNT fai uscire tu? Allora, se tu clicchi per esempio una volta la leva, ne esce una Tu clicchi più volte, può uscire anche più volte Ah, ok, perché ho dato il bottone Sì, 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 sì Io faccio in questo modo, adesso collego tutto con i miei dispenser Ok, truccamente il mio cannone è fatto Vediamo se funziona oppure no Ho paura che possa esplodire tutto Attenzione, ok È arrivato Marci, sta arrivando prima bomba Oh Come ti è andata? Benissimo Penso te l'ha messo l'esplosa Però comunque è andato molto bene come primo tentativo Adesso devo capire una cosa, io se metto un dispenser anche qua Oddio Porca miseria Sento spogliare tutto Un botto di roba Oh Attento che però la send si risistema Quindi devi suggerire un bel po' quella Io non so se è questa No, 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 è allucinante sta cosa Quanta ne sta lanciando in un secondo Allucinante, quello che ho fatto è allucinante Ma da quando? Aspetta, io fossi a far così Per attivarli entrambi Vediamo se mi ricordo bene come si faceva Oppure su un pirla Andiamo, forza, vediamo Io non ho messo l'attenzione Vai, 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 vai Ok Marci C'è praticamente un buco Eh, anch'io però Non so perché mi senti sotto la base Non doveva succedere Come hai fatto per tutta quella base? C'è la propria demolita Non ha senso quello che succede Allora, Marci Ho dimenticato il cibo Quindi adesso facciamo così Abbiamo stato un reggio così Non bisogna neanche mangiare Facciamo il primo che arriva a tre morti, Marci Va bene, va bene Io parto per il secondo No, dimenticato, no Ho fatto una cagata E esplode tutto, Marci Eh, a me è un successo uguale Ho dimenticato di piazzare la TNT Eh, a me è successa esattamente la stessa identica cosa, bra Siamo due pirla, Marci Lo sai che siamo due pirla totali? Eh, adesso guarda Direi proprio di sì perché non doveva succedere Guarda, io non ho più niente Non ho più un buco Io ho un buco e basta Io ho solo un buco Quale è stato il problema? Io ti dico che sto mettendo adesso il doppio di Peter Ah, ok Ma tu hai già messo il doppio dispenser? Ero qua, doppio dispenser? Come si è messo? No, doppio ne ho messo per adesso Ok, ok Però adesso uso il bottone E cosa accadde con il bottone secondo te? E lo clicco più volte Ah beh, anche con la leva per farlo però Cioè la leva che più volte È più bello Forse hai ragione Però io ho paura di esplodere tantissimo Quindi facciamo così Ok Forse mi conviene ritardare tutto questo ancora di un repeater Quindi faccio così No Ok Qua mettiamo la TNT Uno qua Uno qua Uno qua E l'ultimo qua Marcis è pronto Sta arrivando Oddio No Marcis sta arrivando Attento No Ok Ti ho fatto spodire Mi sa qualcosa anch'io Però non ho capito bene Ma che ci si è Esploso letteralmente tutto Allora io ho un piano Ho un piano Marci Vai Dobbiamo mettere l'acqua Davanti al nostro isola Così non esplode Quella parte giusto? Ma chi se ne frega Io la metto Tanto è già spoduto Quindi Ok Tocchemente così Dove spogliare di meno Anche perché mi manca Tutto il resto Ma tu ne hai messi due Sto male Certo uno sopra l'altro Amico guarda che mi copia Ma aspetta Tu come fai farlo funzionare Così giusto per capire Deve esserci un blocco Un blocco E poi Che la resta Un deletto calcolo sopra Ma tramite blocco Tocca anche quello sotto Quindi così Sta arrivando Marcis un'altra ondata Io spero che non mi becchi Perché sono un pazzisco Ok sono fregato Oddio Sì non ci credo Non è rimasto addirittura Fermo perché Ci sono rimasto male C'è Col mio cannone L'ottimato tu Tu sei morto Eh sì Esattamente E non ho più niente Non ho più No Non ho più Come non ho più oggetti Le vi rubati tutti Dove lasciare un po' nella cesta No 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 Non hai capito Sono nella cesta Però Adesso devo stare attento A non distruggere tutto Perché potrebbe essere Un piccolo problema Se succede Io devo far così In teoria Non so se così si attiva Oppure no Sai che forse Non lo so Ah ci provo Se la nostra attiva È un problema Si attiva Meglio così Facciamo in questo modo Qua mettiamo TNT ovunque Ok Autricamente Attivo questo L'acqua si attiva E questo Voglio attivarsi Tutti insieme Vediamo No Non sono attivati Quelli sopra Mi sa Difatti Non è andato proprio Come volevo Marci Perché cosa stai facendo Una barriera Una barriera Perché si sono una barriera Non lo spieghi Eh bro Per forza Fa una barriera Io Io devo costruire Io devo costruire la mia isola Mi sa Per forza Anch'io la mia isola Devo costruire Io non rifaccio l'isola Ma ho una buona idea Adesso secondo me Quasi quasi Ritornerei Alla fase di prima Però voglio allungare Il mio cannone Ancora di più Mettiamo dispenser Qui e qui come prima Stavolta non lo faccio Otto ma lo faccio Quadruplo Se no Esplode di nuovo Aspetta È già attivato Cos'è quella roba lì Ok Potrei effettivamente Rischiare la vita È arrivato qualcosa Non ho visto molto bene Non sono sicuro Che sia arrivato qualcosa Dai Non è arrivato niente bro Non ho visto bene Provare Prova Non ho accionato No no Porca miseria Ho lasciato Marci no Vabbè se l'acqua non esplode Ok se l'acqua non può esplodere Tranquillo Però questo lo tolgo E attivo La leva più volte Aiuto Oddio Mi sa che è arrivato qualcosa È di sottoparte Il muro Mi sa Ma ci sono un pirla Ho fatto partire tutto Ma non c'era Tinti nei cannoni Cosa volevo fare io Devo metterlo Ok Facciamo così Ok Io ho un unico problema In questo momento Non so come far partire Più tnt Bisognerebbe fare un timer Bisognerebbe fare Beh anche con le levi Però su dispenser Non è male Come idea Eh ma non si può fare Perché rimane già attiva Lati Aspetta forse ho capito come Allora io Marci posso partire Ok Quello effettivamente Sì è una bella idea Lo sono esploduto solo Quindi non vale Questo non vale Questo non vale La tinti è arrivata Ma mi ha superato Ma come ti ha superato Mi ha superato È andata oltre Quindi forse Potrebbe spogliarti L'isola Posso? Mi dai permesso di poter spogliare L'isola? Ah sì sì Fai quello che devi fare Perfetto Ma ci sta arrivando È andato altissimo Riproviamoci Devo bombardarti completamente Non devo lasciare di respirare un secondo Io sono in una situazione di difficoltà Ti dico solo questo Perché va così in alto È troppo forte adesso Mi sa Marci Mi sa che Tu vado a spogliare un po' il cannone Non c'è più il tuo cannone Va bene va bene Sei sicuro che vada bene? Sì cosa Ah beh ma è perché hai fatto esplodere Attenzione Sì Non lasci mai il tempo di fare le cose Ah poi mi hai lasciato il tempo Ho ampiato il mio cannone Io per fare quello che voglio fare Devo fare questa roba qui E qua devo mettere dei repeater In questo modo vengono attivati tutti giusto? E non solo quelli sotto Quelli sopra È quello che spero Ma si è salvato il mio cannone Ah si è salvato perfetto Oddio Non è che si sia salvato moltissimo Vabbè Ci sta comunque Quindi se faccio così Ok così va già meglio Dove fare la stessa cosa d'altra parte però E sperare che funzioni Sicuramente così Si dovrebbe attivare tutti e otto Forse mi dovrebbe fare un test Prendo dell'acqua E la metto qua sopra In questo modo Ok Poi Tutta TK che ho Devo metterla nei cannoni Perché qua c'è ancora Ma degli altri Non c'è niente Questa qua Oddio Oddio Ti ha beccato Mi hai beccato Mi hai quasi ucciso Mi hai distrutto il cannone Ma non sono morto Come Ma come non sei morto Tipo sette cuori Ok È stato È stato un bel attacco È stato effettivamente un bel attacco Marci Ok devo Devo muovermi Devo testarsi funzionare Il mio cannone oppure no Ok funziona Mi sembra che abbia funzionato Devo rivedere un attimo Si va ci funziona Quello che ho fatto Però Mi manca una parte del cannone Che qualcuno Mi ha fatto esplodere Tutto bene? Eh sì Come è successo? Ma ti è arrivato un po' Di TNT almeno? Sì Il cannone Di questa non mi sembrava Prima sì Quindi questo qui Questo qui Questo qui Mi ha letteralmente fatto Il filo Dei capelli Come? È andata un po' troppo alta Questo attivarlo così Lei mi stai distruggendo La redstone Lo so No La mia redstone Devo fare in fretta Prima che tu Mi lanci altre cose Forse stavolta ci sono No No Sì Si gode Finalmente Cioè ho piazzato A tenerti in quel momento E tu mi hai fatto Spare quella TNT che ho piazzato Perché dai Non c'è più niente Non c'è più niente Ah Ma sta arrivando qualcosa Si sta arrivando Mi hai quasi colpito Cioè mi hai colpito Non c'è la leva Ok sì ce l'ho Metti la leva No Non ci credo Che fortuna Che è successo? Mi hai tolto Il resto Dove c'erano i cannoni E non si sono attivati Faccio così e basta Aspetta per me Effettivamente Stare di questo No Dove è il mio piccone? Dove è il mio piccone? Dove è il mio piccone? Non ci credo Devo andare a prendere subito Quel tuo cannone Mi sta devastando Madonna Che fortuna Vuoi prendere tutto Ma ho perso tutto Grazie Grazie Sono qua Qua c'è Qua c'è Vado? No Aspetta un secondo Che Fammi solo testare il mio cannone No Testare o no Perché poi arriva verso di me Allora fammelo finire a meno Poi me lo distruggi quando è quasi finito Va bene? Va bene Allora quindi Tranquillo che ci prendo anche un po' Prima di finirlo In questo modo Attacco Ah ti ha colpito Il tuo cannone si è andato Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di più Sempre di più Sì Però ti ho aspettato Questa cosa non è molto lecita Ma sì Ma sì Te l'ho aspettato Prima Ma io non ho neanche proprio il cannone Ah via dai Ragazzi Spero che questo video Di cannone TV Vi sia piaciuto Lo dobbiamo rifare Lo rifaremo in futuro Quindi consigliateci Altri cannoni Da utilizzare Spero che questo video Vi sia piaciuto Così loco Insomma Va bene Ciao a tutti Ciao